Tutto pronto per la prima edizione della Mascherina d'Oro, concorso cittadino per bambini nato da un'idea dei Manà Manà, con la collaborazione di Oroart. L'originale competizione ci sarà il 16 febbraio al Madè in Via Vecchioni. Il pomeriggio di festa per adulti e piccini sarà caratterizzato da diversi momenti. Ci sarà infatti la sfilata delle mascherine, animazione, musica e merenda per i più piccoli, con il riconoscimento stabilito da una speciale giuria per la mascherina più votata. Chi vincerà si porterà a casa la meravigliosa creazione Orafa di Oroart, sponsor dell'evento. Per giudicare le maschere si guarderà all'originalità, alla creatività, all'estetica, alla manifattura, se fatto made, cioè, ma non è obbligatorio, al portamento o all'interpretazione che ogni bambino saprà dare alla sua maschera. Sarà un pomeriggio di festa da non perdere. Sulle pagine Facebook dell'evento ci sono anche tutte le modalità per potersi iscrivere e poter partecipare. La capienza del locale, infatti, anche per ragioni di sicurezza, ha un numero limitato.